Musica Mi chiamo Paolo Chisoglu Mi chiamo Heinrich Miquetara Sono Laura Mirachian Mi chiamo Laura Efichian Mi chiamo Giorgio Petrosian Mi chiamo Aram Manuchian Mi chiamo Antonia Arslan Mi chiamo Pietro Cuciuchian Mi chiamo Lietz Arcaniano Mi chiamo Arno Petrosian Mi chiamo Mario Silani Gerachian Sono Hermano Arslan Sono un atleta professionista di kickboxing Sono stata professore, sono scrittrice Sono conduttore, cantore e faccio anche musicista Sono archeologo Sono un calciatore professionista Sono attrice, regista, danzatrice Sono imprenditore e presidente di un'associazione industriale Sono una delle rarissime ambasciatori di grado della diplomazia italiana Sono attrice e scrittrice Faccio il compositore e il direttore d'orchestra Sono un istruttore di sled dog machine sport, scrittore musicista Faccio il medico di famiglia e partecipo alla campagna vaccinale per il Covid-19 Sono violinista Sono un grafico pubblicitario Sono un imprenditore Faccio l'avvocato Sono un architetto Sono un dottore di ricerca in storia contemporanea Lavoro nell'ambito delle risorse umane Sono un imprenditore nel settore dell'arredamento Sono un architetto Sono un gemmologo e un designer nel settore del lusso Faccio l'insegnante Faccio artista Qui da un'ambulanza Sono cantante lirico Sono imprenditrice Sono storica e insegno all'università di Firenze Sono magistrato Sono medico e scrittore Ricerco i salvatori e i testimoni di verità per il genocidio degli armeni Sono fiero di essere armena Io sono fiero di essere armena Sono fiera di essere armena Io sono fiera di essere armena Sono fiera di essere armena Io sono fiera di essere armena Sono fiero di essere armena Sono fiero di essere armena Io sono fiero di essere armena Sono fiero di essere armena So cos'è il 24 aprile So e so bene che cosa è e che cosa significa il 24 di aprile Grazie a tutti. Grazie a tutti.